Ciao, siamo Silvia, oddio mi sono già dimenticata il nome, che emozione, io sono Silvia, lei si chiami Giorgia, volevo dire che la serata è meravigliosa, per me è la prima volta che fra l'altro poi io sono paesana e vengo da fuori, queste cose non le ho mai viste, è tutto così bello e soprattutto le polpette erano buonissime e poi anche il purè, abbiamo mangiato tantissimo, anche il risotto, ho mangiato due portate, e si vede, e niente adesso volevo salutare mamma, papà e tutti quelli che mi conoscono e soprattutto il mio ragazzo che mi guarda da casa, ciao amore, ciao!